finalmente la vita si rivela per quello che è questa nuda sospensione questo precipizio orizzontale e i giardini si moltiplicano nella testa slabbrata i polsi sanguinano nel vuoto ed è tutto come prima se il prima fosse stato indagato dall'uomo che va di fretta che non ha tempo da perdere schianto di schianti su palafitte elettriche di terrore continuo ma tu venerabile maestro accompagna i miei nuovi sentieri trame di tappeti sbucciature di orologi nervi a fior di pesca stalattiti di ragnatele in questa curvatura di tempo dove la madre e l'universo sono grembo di ogni grido tu venerata visione scomponi la tua piramide sul mio divano sulle mie lenzuole legate per finestre accese di intimità dove fuga è dentro sempre più dentro nel fitto tenebra di noi e e Grazie a tutti. Grazie a tutti.